Tutti pieni di tantissime belle cose da dire, ovviamente andiamo avanti perché la seconda metà di questa giornata è appena cominciata, ci sono un sacco di novità. Ci tengo a partire ringraziando Rai Accessibilità che appunto ci permette di tradurre tutto quello che accade su questo palco in l'IS, nella lingua dei segni. Ci tengo anche a ricordare che ovviamente sulla nostra piattaforma tutto quello che accade è tradotto in inglese appunto per rendere accessibile tutto a tutti quanti. Andiamo adesso a toccare un argomento che a noi di WeMakeFuture insomma ci sta molto a cuore, ovvero l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo già parlato ma adesso lo facciamo da un altro punto di vista, sotto un'altra forma, ovvero l'applicazione alle strategie digitali. Ovviamente non sarò io a parlarne ma una persona un po' più preparata di me, lui è il COO Consulting di Search on Media Group. Facciamo un bel applauso a Marco Quadrella! Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi parleremo di come l'intelligenza artificiale ha cambiato il nostro modo di vivere internet perché capendo come ha cambiato noi capiremo come stanno evolvendo le piattaforme e capendo come stanno evolvendo le varie piattaforme riusciremo a tirare delle nuove linee guida per come dovranno essere strutturate le aziende che vorranno sopravvivere a questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Fino a 18 mesi fa, un'era geologica fa, se avevo bisogno di per esempio scaricare un video su YouTube, la mia migliore opzione, se non sapevo già farlo, era andare su Google e cercare istruzioni. Avrei ricevuto 10 link, avrei dovuto capire, studiare, saltare le pubblicità, andare a capire come fare per poi scaricarmi il video. Lanciano Cagpt, posso chiedere a Cagpt di darmi direttamente le istruzioni proprio per il mio caso. Quindi salto una gran parte di ricerca della conoscenza e ho subito la soluzione. Cosa succederà tra altri 18 mesi in questa nuova era dove stiamo andando? Probabilmente il mio sistema operativo, il mio software, il mio speaker potrà semplicemente sentire che ho l'esigenza di scaricare un video e gli dirò scaricami l'ultimo video del WMF e lo farai in totale autonomia. Un altro esempio, 18 mesi fa avevo bisogno di un paio di scarpe da running nuove, andavo su Google, chiedevo delle scarpe da running per correre sull'asfalto, mi trovavo inondato di risultati possibili, dovevo diventare un esperto di scarpe da running e poi piano piano continuavo il mio percorso d'acquisto. Adesso posso semplicemente andare su Gemini, dirgli quali sono le mie esigenze, ogni quanto voglio correre, come sto e stare a Gemini a propormi le migliori scarpe da running per me. E dove stiamo andando? Stiamo andando in un mondo nel quale tra 11-18 mesi ci sarà un agente, un maggiornomo personale, al quale chiederò di cambiare le scarpe da running, che già mi conoscerà, quindi saprà ogni quanto vado a correre, come sto, quali sono i brand che preferisco rispetto agli altri e mi dirà direttamente, guarda, scegli tra queste quattro, come se fosse il miglior commesso del mondo e io gli potrò dire tranquillamente, guarda, comprami la seconda che mi hai proposto e la potrò aspettare direttamente a casa. Siamo quindi in mezzo a un guado tra un prima, un prece a GPT, un grande periodo di incertezza nel quale le piattaforme rilasciano ogni tre giorni delle rivoluzioni e arriveremo a un punto successivo tra un ipotetico 18 mesi sul quale c'è abbastanza consenso nel quale ci saranno degli agenti che riusciranno a compiere le azioni al posto nostro. Di agenti ne ha parlato in particolare Bill Gates che dice, da persona che come sappiamo ha contribuito in maniera sostanziale a come noi adesso utilizziamo i computer e a creare l'industria del software, dice ragazzi guardate che questa cosa cambierà tutto, il mondo degli agenti cambierà il modo di fare le cose. Che cosa cambierà in particolare secondo Bill Gates ma secondo tanti altri? Beh, per prima cosa non serviranno più gli attuali siti di ricerca perché semplicemente le intelligenze artificiali, il nostro super maggiordomo cercherà direttamente le informazioni per noi. Che cosa vuol dire questo? Sicuramente è un problema per Google ma pensate che impatto avrà sull'editoria, su tutti Marco Quadrella che prima avevano un sito per insegnare alle persone a scaricare i video su YouTube che adesso verranno completamente bypassati o a un sito di calciomercato che cercava l'ultima notizia quando adesso posso chiedere chi sarà il prossimo attaccante del Milan a OpenAI e sperare che mi faccia lui la sintesi tra tutte le notizie più interessanti. Ancora, secondo Bill Gates, anche il business dell'e-commerce verrà completamente stravolto. Perché? Perché non ho più bisogno di avere l'interazione con il sito e-commerce, posso semplicemente delegare il mio agente ad acquistare e il mio agente troverà tra tutte le condizioni possibili in pochi secondi la più adatta a me e procederà direttamente all'acquisto. Pensate a che rivoluzione per i vari modelli di business e quali siamo attualmente abituati. Ma non c'è solo questo. Bill Gates va oltre, ma ero fatto in maniera molto interessante, parlando di quelli che sono dei temi molto cari alle sale del WMF. Ci dice che business che una volta erano separati, come il pay-per-click, il social media advertising, i software di produttività, lo shopping, diventeranno prestissimo un solo enorme business, completamente diverso con gli argini che sono crollati. Sentite parlare spesso di Google liquido e di come si siano sciolte le materie, ma è molto più concreto di quanto pensiamo. Come stanno reagendo le piattaforme? Beh, per prima cosa è interessante sapere che lo stesso CEO di Google dice non siamo più un'azienda che vuole essere centrata sulla ricerca, non sarà la ricerca la leader del futuro, serviranno agenti, serviranno questi maggiordomi digitali. Qual è la strada che si è immaginata Google? Google ha deciso di fare pivot e concentrare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Considerate che Google ha già nove prodotti o servizi che hanno più di un miliardo di utenti, che già adesso naturalmente fondono ricerca, social media, software di produttività, sistemi operativi. In questi nove prodotti voi trovate un esempio di tutto e già adesso si stanno fondendo, grazie all'intelligenza artificiale, per creare sempre più un agente. Gli altri stanno fermi? Assolutamente no. Poco fa, pochi mesi fa, c'è GPT ha lanciato il suo nuovo modello, non particolarmente più intelligente del precedente, ma molto più bravo del modello precedente a interagire con le persone. Quindi un modello in grado di vedere con te la webcam del cellulare, di cambiare contesto molto velocemente, di seguire le conversazioni. Quindi non batto Google a fare il motore di ricerca, ma cerco di arrivare prima di lui a creare questo super maggiordomo. Nel farlo però, l'industria del software verrà sicuramente in mezzo a questi... molto cambiato da questi cambiamenti. Pensate che in una delle varie funzionalità lanciate da OpenAI, adesso in CiaGPT è possibile a chiunque fare domande, ottenere risposte e avere grafici che prima potevano essere fatti magari soltanto con Excel. Quindi l'utilizzo di Excel del 90% delle persone che non lo fanno di lavoro adesso può essere sostituito da un account gratis di OpenAI che bypassa anche dei problemi chiaramente di competenza perché lavora un po' per noi. Ultimo a entrare in questa gara, non che abbiamo preso tutti i casi, ma sicuramente decisivo il passo che ha fatto Apple ultimamente a inizio settimana, quindi veramente pochi giorni fa. Non soltanto crea la calcolatrice definitiva nella quale tu spieghi il problema e quando metti uguale ti dà la soluzione. È un bel gioco. La rivoluzione grande sarà il fatto che Apple è l'unica che per business model ha il controllo completo del sistema operativo, ha il completo controllo dell'hardware e quindi riesce molto velocemente a fare queste cose. Quindi non soltanto ti riorganizzo le notifiche, ti dico quali sono le notifiche più importanti per te, ma ti faccio già il riassunto di quello che troverai. Quindi ti dico guarda che questa tua amica ti ha invitato a cena, non ti dico c'è un messaggio della tua amica. E questo è soltanto il primo passo, ma probabilmente la gente del futuro potreste già avercelo in tasca e potrebbe essere molto più veloce di 18 mesi questo passaggio. Siamo in questo mezzo. Cosa possono fare le aziende per cercare di orientarsi e per prepararsi a questo futuro che ci sarà tra 18 mesi? Sinceramente chi non l'ha ancora fatto ha ancora poco per passare alla creazione di un suo data lake. Deve cercare di stipare quanti più dati possibile in maniera organizzata e cercando di capire che cosa farne. Big Query è soltanto un esempio di questi software distribuiti che usano tante memorie, che usano tanta potenza di calcolo. Perché? Perché tra poco del vostro business digitale ci saranno i dati, il brand e poco altro, in un mondo dove l'e-commerce e la parte di contenuto sarà ceduta praticamente da API. Ancora, preparatevi a rivoluzionare il vostro budgeting, perché come cambierà il già complesso percorso di acquisto in un mondo dove la awareness è importante o è importante la awareness che ha il mio maggiordomo? È importante che io conosco un brand o che lo conosca lui? Come lo conosco io o come lo conosce lui? E tutta l'attività di conversion rate optimization sarà bypassata da un acquisto mediato soltanto da una voce? Ancora, cerchiamo di adottare il più velocemente possibile tutte le soluzioni che le piattaforme ci propongono. In questo esempio ci sono tre soluzioni proposte da Facebook che modificano le immagini, ne cambiano lo sfondo, producono testo per permettere più velocemente a chi fa advertising di raggiungere il target con i messaggi migliori. Ma ancora, dove le piattaforme non funzionano da sole, sporchiamoci le mani. Questo è un esempio solito, ma mettete l'IT della vostra azienda pesantemente a sporcarsi le mani con l'intelligenza artificiale. In questo caso, per esempio, ci sono già degli script che ti aiutano a ottimizzare il feed di Google o i feed che passerai poi a Google Ads tramite l'intelligenza artificiale. In particolare, cerchiamo di battere le ultime resistenze che abbiamo perché la vera gara di noi come tassisti, social media manager, amanti del gestore di advertising, qualsiasi sia il nostro lavoro. Non è tra noi e l'intelligenza artificiale la gara a chi diventa più bravi, quanto tra noi e i nostri concorrenti che stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale. Buona traversata in questo lungo passaggio. Se volete, ne parliamo poi allo stand domani. Grazie mille.